La sezione protezione civile della regione Puglia ha partecipato con un contingente di cinque volontari a un'operazione internazionale a Marsiglia in Francia nell'ambito della costituzione di un modulo europeo unico per la lotta agli incendi boschivi diventando così un riferimento nella costituenda organizzazione europea che ha come obiettivo principale appunto la gestione efficace degli incendi boschivi. Le attività sono state svolte nell'area di Aix-en-Provence nella scuola degli ufficiali dei pompieri francesi dove gli italiani hanno prestato il proprio servizio. I moduli partecipanti sono stati integrati nel sistema di risposta del paese ospitante portando al seguito circa 11 automezzi equipaggiati con 10.000 litri di acqua e attrezzatura dedicata oltre a 32 operatori tra vigili del fuoco e volontari del corpo AIB regionale del Piemonte della Puglia. Con una nota il gruppo fa sapere che si tratta di un'importante occasione di crescita per il volontariato AIB pugliese considerato tra le eccellenze italiane nel settore che ha avuto l'opportunità di consolidare e internazionalizzare la capacità di risposta della protezione civile regionale.